Sì, sì, sì. Dopo un chilo e mezzo è uno scorso. Fate prima voi, fare delle camere. Volete fare qualche domanda? Molise, buona terra. L'emirati andrà alla Emirates Foundation e per il ricavato della Cina andrà alla Caritas di Macao. Appena ventenne, giusto? Un po' emozionata, ma è naturale ed è normale. Un bel inizio. Pensate, forse va alla tavola di Sheikh Mansour.